L'arma mia Ora tutta quest'aria, tutto ciò che vediamo alle nostre spalle, qui c'erano due enormi cortili della città, tra cui il più grande cortile del centro storico che si chiamava Cortile a Vampa Lavori. Quindi immaginiamoci la vitalità di questo quartiere e ciò che invece ha comportato con i fenomeni di svuotamento, di dentropizzazione che poi ha provocato con l'allontanamento verso Villa Sete e verso altre periferie agrigentine. Ma soprattutto ha provocato anche un danno all'idea di comunità di agrigento, perché la stellarizzazione che poi la città ha subito con la sua enorme periferia... Sembra una metropoli del nord. Esattamente, per cui oggi il paradosso è che il centro della città è in fondo l'unica vera grande periferia di agrigento e questo è un segno, un segnale tangibile evidente di quello che sto dicendo. E' proprio la frana che ha provocato anche come conseguenza nefasta questa stellarizzazione di agrigento, che comportano soltanto problemi di ordine logistico, amministrativo, ma anche credo la fine di un'idea di comunità, di compattezza. E questo spiega anche probabilmente certe litigiosità degli agrigentini anche sui temi del bene comune, per cui si dovrebbero comprendere più le ragioni che ci uniscono e non quelle che si dividono. Qui invece si fa il gioco al contrario. Si cercano sempre le ragioni divisive e in queste ragioni divisorie poi c'è anche l'idea che la nostra condizione è una condizione purgatoriale di non cambiamento assoluto, ma è come se questo non cambiamento fosse statuito dalla nostra stessa psicologia di cittadini. E' quindi una strana situazione che in fondo è stata provocata anche dalla frana, ma che in fondo è già dentro Pirandello. Quindi la frana in fondo Pirandello l'aveva letterariamente prevista in termini chiaramente di... Sembra una drama Pirandello. Esattamente, cioè quello che in critica letteraria si chiamerebbe verità romanzesca. Quindi che è una verità, però una verità del romanzo. Ecco, Pirandello in qualche modo l'aveva già previsto tutto questo e avremmo forse dovuto interpretarlo e comprenderlo prima. Ragione per cui io mi riferisco sempre al nostro scrittore come un nostro grande contemporaneo. Pirandello per me vive in una condizione sospesa nel tempo perché è davvero un contemporaneo degli agrigentini. Probabilmente il suo messaggio non l'abbiamo ancora benissimo colto. Probabilmente all'estero l'hanno colto meglio che da noi. In Germania soprattutto. In Germania soprattutto, esatto. E quindi il suo messaggio probabilmente ci arriva attardato. È filtrato da altre culture che invece l'hanno recepito con maggiore immediatezza e credo con maggiore comprensione. Qui c'era un pezzo di città che oggi non esiste più. E però è anche un luogo della rinascita. Di una rinascita possibile e di una rinascita necessaria per la città. È il cosiddetto luogo simbolo perché raccoglie al suo interno una tessitura complessa di tutto ciò che è la storia della nostra città. Storia civile e storia culturale. Io la cosa che più mi colpisce, devo dire, in questo momento, proprio in questo momento preciso, è il silenzio che, come dire, addemura, direbbe il mio amico Pietro Quellalletti che è un poeta dialettale di Naro. Mi ricordo che quando ero piccolo, la mia infanzia, che ho passato giusto appunto a Naro, c'era un vociare continuo di donne, di venditori e di bambini che giocavano. E immagino quanti bambini dovessero esserci qua, no? Prima della frana, a giocare, a sedersi. Ci sediamo qua come dei bambini e apriamo i nostri occhi come bambini alla meraviglia. Poi le tue passeggiate immaginarie, che quando tu passeggi, cioè camini, in qualche misura vieni colpito da qualche cosa che è iconico, che rimane nei tuoi occhi, nella tua retina, come immagine di qualcosa che rievoca qualcos'altro. Ora questo tuo essere, tu cosa ricordi del tuo essere bambino? Eh, ho dei ricordi frammentari e soprattutto sono ricordi non di luoghi ma di sensazioni, quindi dei ricordi quasi tattili. Ricordi di odori soprattutto, di sensazioni anche a pelle. Io ricordo i miei giochi, non di lucavamo a Naro, lucavamo a Mucciare, a Angagliare, non so come si chiamava l'agrigento, ai figurini, raccoglievamo i tappi delle bottiglie, quella della gazzosa, delle birre, facevamo una raccolta pazzesca, no? Quelle San Pellerino con la Stella erano più ricercate. C'era una cosa pazzesca. C'era una legazzosa. C'era una legazzosa, allora con... C'era una locale. C'era una legazzosa, con la pallina. Ah, lo ricordo, bellissima, questa cosa fantastica. E quindi queste reminiscenze che mi richiamano questi luoghi che purtroppo sono morti perché non ci sono bambini. In una società dove non ci sono bambini, secondo me, è difficile parlare al futuro, no? Sciascia aveva questa cosa che rimproverava i siciliani il fatto che non solo che non credessero le proprie idee, ma che il siciliano non avesse futuro. In realtà, secondo me, aveva torto perché letteralmente parlando il futuro esiste. Come no? Basta citare Giovanni Meli, per esempio, eccetera, eccetera. Però nello stesso tempo aveva ragione perché è come se i siciliani avessero dimenticato di pensarsi al futuro perché probabilmente le cose che dovevano affrontare nel loro presente erano abbastanza toste. Questo era un teatro, qua c'era una platea, là c'era un palcoscenico conzato. E il piccolo mise in scena nel 1900, adesso Caterina mi rimprovererà perché non ricordo mai le date e nemmeno i nomi e mi corregge sempre, io sono contento, 90, 91, 92, insomma. Camilleri fece una riduzione di una novella pilandelliana, Il Vitalizio. Il protagonista, Marabito, interpretato divinamente dal nostro grande Pippo. Questa messa in scena, il piccolo volle farla proprio qua, in questo luogo simbolo che rappresentava esattamente Agrigento, ma Picchi Marabito. Il Vitalizio parla di questo luogo, parla del fatto che da là, tu dicevi prima, si vedeva panteggiaria, in alcuni momenti particolari si vede pantelleria. Ora tu immagina che quella fu la prima volta in cui Camilleri cominciò a chiamarmi o dottore. C'è questa bella suggestione dei luoghi che comunque diventano teatro, è il teatro che diventa luoghi proprio perché sono abitati o riabitati, ma in maniera quasi artificiale. Non ti pare che sia invece necessaria un'attenzione diversa da persone sensibili per riuscire a riabitare questi luoghi, esattamente per la stessa cosa che hai detto tu, una suggestione per me molto bella. C'è questo di diventare paradossalmente da centro a margine, quando invece tutte e due dovrebbero essere una risorsa, perché il margine è laddove è vissuto nel modo più opportuno, perché le frontiere come disse un nostro caro amico Claudio Magris vanno vissute anche oltre. L'identità può essere vissuta superando l'oltre dell'altro, la frontiera, ma il margine, la marginalità, la povertà può essere riconosciuta se diventa risorsa e non un limite da combattere. Assolutamente. Intanto mi è piaciuta molto una cosa che hai detto con riferimento alle passeggiate, cioè all'idea di passeggiare attraverso la città. Tu hai detto che le prime passeggiate le compiamo dentro noi stessi, anche attraverso i nostri ricordi e il modo in cui poi la nostra infanzia, il modo in cui anche le nostre esperienze, la nostra intelligenza, la nostra capacità critica filtra queste informazioni che sono sedimentate. Sappiamo che la memoria è selettiva e quindi in qualche modo noi in parte per scelta, in parte per necessità evidentemente ci costruiamo anche un destino di memoria e talvolta però questo destino di memoria è falsificato ed è falsificato anche il destino di memoria delle stesse città. Io ricordo un libro straordinariamente bello che si chiama Contro Venezia, era un atto di amore di Venezia in forma di pamflet contro una città che oggi è una città disneyana, è una città burlesca, è una città cartolinizzata nel senso peggiore del termine. In fondo Venezia non esiste, forse è la più grande città al mondo che oggi non ha un'identità. La vera Venezia è una Venezia immaginare, è una Venezia invisibile che oggi il turista non vede, coglie degli elementi, coglie dei tratti che cerca di mettere all'interno di una rete, ma è una rete predeterminata e convenzionale. Quindi l'idea del viaggiare con il senso della scoperta oggi non esiste più, è tutto etero diretto anche dal punto di vista di come noi gestiamo le nostre percezioni perché poi le nostre percezioni equivalgono alla gestione dei nostri consumi e tutto quello che ciò significa. Quindi Agrigento soffre della stessa situazione, è anche una città che ha le sue tendenze da cartolina che ovviamente favoriscono il turismo e quindi è un bene anche che ci siano, però c'è anche una città altra, una città sommersa, una città non convenzionale che però già è dentro Pirandello, in cui probabilmente non ci sono grandi palazzi nobiliari, non ci sono grandi monumenti, non ci sono grandi chiese, però ci racconta appunto della microstoria, cioè di come i luoghi siano stati formati, vissuti, destrutturati e consunti dalle persone che vi abitavano. Quindi è l'idea di relazione fra l'uomo che incide sui luoghi e il luogo in sé come spazio fisico, che però non vuol dire nulla. Io faccio sempre riferimento a Calvino e alle città invisibili, perché è un concetto quello di città invisibile che mi piace molto, sebbene io lo assumo da Calvino che invece è uno scrittore che non amo particolarmente anche per, soprattutto nel suo periodo, diciamo il Calvino combinatorio, quello della leggerezza, mi interessa molto meno rispetto al Calvino realista che invece è stato un grande scrittore. E però è interessante quest'idea delle città invisibili, perché Agrigenta ha un enorme grado di invisibilità e probabilmente è proprio questa parte di città invisibile che è la più interessante, quella che nessuno coglie, che nessuno conosce e che si rischia anche di non far conoscere al turista. Per cui la Valle dei Templi, che è qualcosa di straordinario, imparagonabile con tutto ciò che nel centro storico esiste, però deve costituire anche il pretesto assoluto, magnificante di questa Agrigento invisibile che invece abbiamo finito per dimenticare e che rischiamo di perdere, perché poi fra 20, 30, 40 anni diremo come mai non si sono compiute le battaglie civili, 30, 40 anni fa dove era la città? La città siamo noi oggi e quindi è quello che dicevi tu, dobbiamo interrogarci già sul presente cercando delle soluzioni come in questo luogo in cui non ci sono più bambini, ma dove i bambini potrebbero ritornare, cioè potrebbero ritornare al loro centro e quindi a ciò che simbolicamente può equivale anche al nostro nucleo identitario, quindi il centro è questo nucleo identitario che noi abbiamo purtroppo smarrito. Anche perché c'è questo fenomeno centrifugo che ci impedisce poi di recuperare le nostre radici, a Nero c'era un detto anche qua immagino, che si diceva, quando io andava da piccolo una persona anziana, mi diceva piccolò venne qua e io ci avevo per rispetto, mi diceva così, con la faccia bassa perché mi vergognavo da morire, mi diceva così, a cui appartiene. Ora questa domanda in realtà ti costringeva, oggi mi costringe a riflettere, se quei vecchi non mi avessero detto così, a cui appartiene, io da bambino non mi sarei posto il problema da dove vengo, chi è mio padre, chi è mia madre, chi sono i miei avi, cos'è il territorio in cui io abito, in cui io insisto, i miei genitori che sono emigrati, che sono tornati, Naro, Campobello di Licata, Agrigento, c'è il porsi degli interrogativi che oggi probabilmente questa dimensione un po' troppo, scusa la generalizzazione globalizzante un po' ti impedisce, perché è proprio vero, non sono soltanto i monumenti che parlano, non sono soltanto i palazzi nobiliari che parlano di storia, quella è la grande storia, noi siamo una storia con la S minuscola e che però chissà perché, non solo nessuno ascolta, ma nemmeno noi abbiamo il coraggio di dire, la cosa più importante è permettere l'incontro, gli incontri sono qualcosa di magico, che però devono avvenire nella dimensione più, tra virgolette, spontanea e semplice possibile, senza sovrastrutture, senza imporre per forza il tuo punto di vista e nemmeno la tua immagine, senza per forza ricercare conferme, ho l'impressione che in alcun luoghi teatro del nostro territorio, i luoghi teatro o i teatro luoghi vengono usati come ricerca di conferme. Sì, è anche la tendenza provinciale di una città piccola, di una città che è identitariamente ancora indecisa fra l'essere città e l'essere paese, perché anche Grigento per le sue caratteristiche, anche per il suo numero di abitanti in fondo vive anche questa incertezza, ancora di più legata all'enorme estensione del suo territorio. Per cui la cultura si realizza e si consuma anche all'interno di piccole cerchie, molto autocelebrative, molto chiuse, quindi qualcosa che ricordo un po' le conventicole. E chiaramente fra loro non c'è una comunicazione di natura orizzontale, c'è un senso di assoluta e reciproca alterità. Mancando questa forma di comunicazione manca quell'idea di crescita, quindi probabilmente in termini culturali possono anche essere conventicole con una ragione d'essere, ma non sono produttive di quella cultura progressiva che è necessario, per citare Ernesto De Martino, che è necessario i luoghi alle comunità per crescere, quindi non costituiscono fenomeni di civiltà. La città poi si atrofizza, atrofizza le proprie sensazioni, la propria volontà, la propria voglia di crescere, la propria voglia di fare comunità. Quello che manca è l'idea di una comunità culturale che ancora oggi è da Grigento non c'è stata, abbiamo tantissime persone di grande talento, abbiamo delle grandissime intelligenze, una città che ha dato tanto alla storia, alla cultura e continua ad avere personaggi straordinari. Questi personaggi però non riescono a produrre comunità, o la comunità laddove si accorge anche del talento, cerco ovviamente di metterlo da canto, perché in fondo il talento sottolinea poi la mediocrità e quindi le mediocrità che si raffrontano e si specchiano fra loro in fondo potrebbero anche, come posso dire, pensarsi come grandi talenti insieme, ma in realtà non è così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.